ciao buonasera a tutti allegria come si dite allegria come va tanto caldo di eri pioggia dentro lenziale oggi sole stamattina 16 gradi a quini a bofalcone stasera 30 gradi 28 dai ciao silva benvenuta come stai ecco quella che l'una delle più grandi cantanti di trieste che mi segue sempre una una fan auguro anche te una buona serata sotto il grande maestro genaro merola che di noto caldo autore volevo fare invitarlo al fare insieme ma il maestro genaro ha detto no oggi non mi sento faremo la prossima volta pubblicheremo un qualcosa insieme vediamo il video chiamata vediamo c'è il disco fargo skype faremo una piccola intervista maestro genaro è che dire altro è che dire come dico sempre qua sentite la bora grazie a dio ci ha spazzato via le nuvole la pioggia è andata via qua dietro a fuori di carla tranquilli ho le chiavi senza che chiamo chi di dovere a dare solo dar mai ricevere bocato che mi raccontate di bello quando ho messo al like non ha detto ciao come stai buona serata buona cena niente bel fiocco amici miei vi auguro una buona serata ancora una sette questa al 30 fino al 31 poi sono in ferie il fine 17 tct e fine dopo rientro la settimana la settimana dopo lunedì fate una bella settimana lunga un po due settimane le lunghe ma il mio titolo di capo produzione così tanto faremo tante ferie da fare va bene questo è quanto sono contento mi accettate le ferie ora mi raccomando stati bravi e che sani e che dire restate sani come diceva marco velleggi dopo c'è l'amico dario ciao dario c'è uno di pochi l'unico youtube che riscopolare gli altri proprio non mi rispondono ciao carissima non ricordo il nome del brasile così mi vedi in videocamata guardate la diretta che sono un po stanco ho riposato un pochino pomeriggio auguro a tutti buon dia buona tardi finisce la terza feria terria terria che questo qui mi saluti mi scrivi ciao boh una cosa intenziosa è stata il concerto di maestro candoni concerto è andato benissimo posso dire bene ma purtroppo per qualcuno colpa di la musica il tuo volume ha rovinato un po l'esecuzione ma il maestro candoni ha portato come un grande professionista ha tirato dritto è andato a tornare avanti dispiace questo cantoni tanti anni tanti mesi di prove prove ma si mostrano per fermiamoci lì perché sennò veramente viene nervoso altro che dire vorrei prossimamente vediamo se il signore messo tiene romero la noto parole di salerno a skype faceva una piccola in piccola intervista a 2 così vedo se riesco a fare qualcosa mi faccio faccio pubblico nel mio diario e e sul mio canale youtube che ve lo ricordo franco attunza su youtube ora ciao che neri vedi quasi fuori casa mia non sto sto fuori mia casa e sto a parlare poco portoghese è meglio scrivere boh scrivere boh amico amiche sto molto pescheroso sto qua fuori mi riposo un pochino parlo con voi spero che state bene vi auguro una buona serata buona cena grande abbraccio forte che dire altro niente dovrei dire tante cose non riesco a dire questo minima il mio sfogo saluto meglio amico gilberto tutti voi scusate il mio puntato sono un po giù di corda frisceroso ma vado avanti sotto tutti saluto i tassisti dal mofalcone anche la pt e posso dire oggi pomeriggio questo caldo mi girava la testa meno male fatto la telefonata immediatamente è venuto a prendermi tranquilli sto tutto a posto un po questo caldo non vedo l'ora di ferie dal riposare e così ebbene dai sotto maestro vitelli ciao domenico simone simone scriviti ti ricordo perché se non guardare e non ti scrivi ti ritiro le orecchie in fabbrica o ti metto il 380 sulle dita no scherzo sono cattivo simile carlo ti ringrazio di cuore quel che hai fatto casa mia altro vi voglio bene diamo una buona cena sentite le campane colchiamo nella messa 18 e 25 italia vi voglio bene un grande abbraccio saluto a santa santa nardini saluto claudio ravelli maria antinori luci elisi eccetera eccetera tutte le persone che mi seguono mi conoscono saluto anche tutti e tutti dall'atleta i miei parenti i miei amici in tutto il mondo un grande abbraccio benedizione a tutti un forte abbraccio grazie del col dell'abbraccio che dire a voi voi tutti grazie 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 vi voglio bene un abbraccio forte e vi iscrivetevi nel mio canale youtube ecco qua la grande albisaldo di stranzano il miglior assaldatore del mondo albisaldo non mettiamo il nome originale perché il nome di battaglia albisaldo non posso dare il nome originale perché sennò devo chiedere al maestro non posso dire il nome perché questo qui è grande non posso non posso dire per il fatto di grande quello ciao alba come stai una buona serata a te spero che sei bene sono qua mi vedi che sto fuori di casa non sono chiudo fuori grazie a dio sennò albisaldo deve venire con la trezza a tira verso la porta altro che vi voglio bene vi ringrazio una buona serata iscrivetevi al mio canale youtube ringrazio tutte le 39 persone che mi sopportano sul canale fate conoscere il canale anche condividete il video sul canale un grande abbraccio un bacione grazie anche a te carissima e che dire ancora sono soluto antonella di marcia carara e tutte le altre persone saluto tutti vi voglio bene mi raccomando fate i bravi restate sani mangiate mangiate una bella pizza piccante quando mandate più piccante pensate a me un bacione un bacione ancora vi voglio bene vi ricordo il mio canale iscrivetevi mi raccomando perché se non vi tiro le orecchie anzi faccio solletico che più con una penna come fare così un bacione ciao a tutti ciao alba buona serata buona cena grazie saluti da sicilia io sono qui da mo falcone ti saluto dal nord est saluto mi tanto saluto da sicilia mi raccomando sicilia è una bellissima regione vorrei venire visitarla prima a palermo a trovare la mia sorellina poi fare il giro di palermo girare la sicilia costo in costo come si dice facevo non ho fatto vorrei fare proprio visitarla visitare i musei i teatri le chiese che avete bellissime e tutto il resto spero riuscire un giorno purtroppo come anche ho il brasile tanta gente devo andare per trovare in brasile ma purtroppo tene non ci sono ma se se entro nelle delle grazie di youtube e vi trovo iscritti benissimo vero a trovarti sicuramente c'è catania mi è una bellissima città ecco qua il maestro genero merola si è inscritto si è infine entrato se potrei venire in sicilia vengo tranquillamente visitarla e qualche grande maestro genero merola che grandi parolieri di napoli che andate avanti ecco qua saluto a genaro boh genera un giorno ok andiamo a prendere un caffè un caffè con con quel che passa buona per così e poi mi porti per catania so che bellissimi sono bellissimi posti a catania dovrei avere anche un tre a min tu due persone a catania se mi ricordo bene ma sicuramente eh dirò a genaro che ti porti venga anche lui grazie dell'elesimo e alba che adesso qua c'è anche genaro che in diretta vi salutatevi nel via diretta ma occhio porterò anche genaro dai vediamo dai boh un bacione vi voglio bene faremo un tour tutti e due e tutti e tre insieme io e genaro andiamo venendo in sicilia e dopo facciamo torniamo della sicilia col furore non col furgone grazie ti avremo sicuramente ma se il maestro genaro è libero io sono libero volentieri per rivenire ma purtroppo genaro è meno strada io dal nord dal nord est un po più difficile vedi quanta gente mi scrive non mi chiedono gli inviti mi vanno invitano vedono boh vi ricordo iscrivetevi nel mio canale youtube e genaro roba se è privata scrivetevi privato per favore ok genaro io ti la lascio perché ti conosco perché sennò nel mio diario nella mia diretta non ve lo voglio che singa di quelle altre parti daniela benvenuta è la prima volta che vedo che ci sei tu benvenuta vi auguro una buona serata buona cena un bacione fatti bravi adesso vado a prepararmi da mangiare farò una bella pasta asciutta piccante e poi nina faccio una chiacchierata con mia sorrellina e poi vado riposare che domani mattina giornata pesante saluto la carissima amica di qui di panzano ciao nicole benvenuta amici miei fatti bravi un bacione e cosa vorrei dire altre tante cose dire tante cose ma non riesco dire niente grazie ancora iscrivetevi al mio canale mi raccomando fatevi fatevi iscrivetevi fatevi conosci il mio canale e mi raccomando cercate franco trono su youtube e poi venite iscrivetevi se arrivo a un bel gruppo fresco come una rosa ma quando mai fresco una rosa si ho fatto fenichelle pomeriggio ti dico subito albi ho riposato un pochino adesso faccio salvo questa diretta buona cena maestro a te e tutti gli amici del gruppo qua della del video del canale del mio diario e del mio gruppo della mia video diretta una serata saluto tutti mi raccomando fate i bravi e presto ciao a tutti un bacio e vi voglio bene dio con voi ciao ciao a presto albi anche te che sei senza dio ma ti voglio bene come un fratello che sei uno di pochi quadri dentro che voglio bene un bacio e a presto carissimo bacio a te la tua sposa e tutti i tuoi figli ciao caro a presto a domani ciao a tutti e la prossima diretta ricordati franco trono su youtube ciao